Domanda. Io ancora non ho capito che cosa sono gli archetipi. Gli archetipi sono vibrazioni. Noi dicemmo che il piano acasico, o della coscienza, è come un tappeto. Adesso aggiungiamo che è un tappeto costruito a strati, perché tutta la materia del piano acasico, come quella dei piani successivi, è costituita da diverse densità di materia. Voi già sapete dei sottopiani di densità materiali che costituiscono ogni piano di esistenza. Ora, immaginate questi sottopiani come strati orizzontali di vibrazioni che attraversano il piano della coscienza. L'archetipo non attraversa il piano della coscienza in senso perpendicolare, dalla materia più sottile alla materia più pesante, ma lo attraversa in senso orizzontale. Quindi, la vibrazione di un archetipo appartiene ad un solo sottopiano, alla natura vibratoria di un solo sottopiano. Grazie.